Io sono uno dei giudici, ma non sono solo, sono insieme a Federica Torti. Eccomi Gianmaria, ho già ogni muscolo reattivo del corpo perché questa sarà una super prova, l'Iron Woman contro il Superman. A questo punto noi due dovremo controllare le loro traiettorie, i tutor dovranno controllare tutte le operazioni preliminari e la correttezza delle varie manovre. Io poi ho deciso di complicare tutta la situazione con tre domande sul codice della strada. Chi risponderà peggio verrà svantaggiato nel corso della sfida successiva. Entra il primo concorrente, Michael! Ben arrivato, fammi toccare ferro che porta via la sfortuna. Sei pronto? Seconda prova, area 5 del centro guida sicura ACI-Vallelunga. Nella prima prova abbiamo solamente scaldato i muscoli perché i nostri due concorrenti sono dei veri atleti. Allora, Michael e Silvana. Io però ho dovuto applicare la penalità a Michael perché ha risposto male alle domande sul codice della strada. Io ho tirato indietro tutto il sedile. La prova qual è però? Allora Gianmaria, siamo ancora qui nell'area 5 del centro guida sicura ACI-Vallelunga e ci appuntiamo ad affrontare la prova numero 3. Michael è qui con noi, commenterà insieme a me. Saremo i giudici insindacabili di questa prova che consiste in... Io l'ho chiamata la prova del gambero. Sostanzialmente bisogna avere la macchina in retromarcia, non bisogna girare. Diciamo che vince Michael, ma io mi aspettavo qualcosa di più da entrambi. Super sportivi dove? E insomma... Siamo arrivati alla seconda prova si ci... Scusate, vai.